tante proteine per bruciare i grassi grande spazio ai carboidrati come nella dieta mediterranea 12 14 o 16 ore di pausa tra un pasto e l'altro un regime vegano per ridurre l'impatto sul pianeta e la sofferenza degli animali sono tantissime e spesso contraddittorie le regole dell'alimentazione buona in tutti i sensi e corretta uno scenario dominato dalle mode che diventa ancora più complesso quando l'attenzione al cibo si coniuga con il desiderio di prevenire alcune malattie in primis quelle cardiocircolatorie marco klinger ha intervistato per il format tv medicina top prodotto dall'ital press carlo cipolla dell'istituto europeo di oncologia di milano dieta mediterranea e non plus ultra la fin fine lo fai apposta a chiedermi questo non è la provocazione la dieta mediterranea come sai ha circa 40 anni e per certi versi è superata non c'è niente da fare superata da cosa cosa trovi carente la dieta mediterranea in cosa non no la trovo monoteistica e come tutte le cose nelle quali tu perdi l'omogeneità l'uomo deve mangiare di tutto questo eccesso di carboidrati sostanzialmente anche di frutta e di verdura perché ricordiamoci frutta e verdura sono 100 per cento carboidrati la dieta mediterranea assistiamo a un incremento del 31 per cento dell'obesità cioè si parla tanto di prevenzione e quindi di riduzione dell'obesità del sovrappeso e poi la dieta mediterranea ti obbliga a sette prese di cibo poi non va bene per i giovani perché ma chi ma chi mai fa sette volte voglio dire una presa di cibo durante la giornata certo certo e quindi già dal punto di vista diciamo sociologico è sorpassata e poi la mania contro il burro contro le uova contro il formaggio e per ognuna di queste cose ti potrei dire perché la dieta mediterranea è eccessivamente restrittiva grazie a tutti